Non pensavo che sarei tornato nel regno esterno dopo la mia fuga. D'altra parte, anche l'offerta della nuova imperatrice mi ha sorpreso. Per ringraziarmi del contributo contro l'insurrezione di Shao, mi ha nominato suo emissario presso gli zaterrani. Sono tornato in patria, con il sigillo della Casa Reale, mostrando alla mia gente che non ha nulla da temere dalla mia mutazione. Che non è uno stigma. Al mio arrivo, l'accoglienza è stata festosa, ma i sorrisi celavano un oscuro segreto. Mi sono imbattuti in una serie di documenti secondo i quali la mia abilità di mutaforma non è unica. Ma tutti gli zaterrani che la possiedono vengono uccisi dal governo per impedire che si diffonda. Non so che abbia dato inizio a questa barbarie, né chi la porti avanti oggi. Ma lo scoprirò. E metterò fine a questa follia.